Mille chilometri in bicicletta da Torino a Barcellona per una raccolta fondi in favore dell'ospedale Molinette di Torino. Otto ciclisti dell'associazione Amici in Bici di Volvera, tra i 17 e i 64 anni, partono sabato 22 luglio da Palazzo Lascaris per dare vita a una impresa sportiva e di solidarietà, con il sostegno degli stati generali dello sport e del benessere, del Consiglio regionale del Piemonte e la collaborazione di alcune imprese private. Il gruppo arriverà a Barcellona dopo dieci giorni, con mille chilometri nelle gambe, dopo aver passato le Alpi e i Pirenei, portando un importante messaggio di solidarietà e condivisione. Pedaliamo per la solidarietà. Il 22 sabato ci sarà la prima tappa, partenza da Palazzo Lascaris, e questi ragazzi, questo gruppo di amici, ha l'obiettivo di arrivare poi il primo agosto a Barcellona. Accendere la luce sullo sport, l'attività fisica, l'attività sportiva, i valori dello sport, la prevenzione, accendere la luce affinché imprese e aziende possano avere la giusta attenzione per dare un contributo a questa iniziativa. L'obiettivo è quello di acquistare strumentazione per alcuni reparti delle molinette. Questo esempio comportamentale io personalmente lo definisco cittadinanza attiva. Siamo amici in bici, sostanzialmente amici che amano la bici per pedalare per la solidarietà. Il nostro progetto è andare a Barcellona per correre 1100 chilometri per raccogliere fondi e per l'ospedale Molinette di Torino. Grazie a tutti.